We are Terminus! Di una cosa really really important for me Perché ragazzi, questo qua è un canale anche di musica ragazzi Questo qua è un canale di musica perché si chiama anche DJ Slash DJ Slash sarebbe un nome da cazzone se non farei la musica, se non farei il DJ POM! Questo, oh mio, bellissimo strumento già mostrato Che anche, ragazzi, ditemi se la cover vi piace perché ragazzi lo fate con Photoshop E era in stile musica Ragazzi, oggi voglio parlare perché il mio canale è un canale musicale Lo so ragazzi, sto facendo dei video molto simili tra loro Solo che vorrei fare questi video, vlog, questi video molto simplici, easy Però dei video comunque abbastanza importanti Dove vi parlo, intanto non mi si vedrà le mani perché l'inquadratura è soltanto a mezzo busto Tipo piano americano, no, piano americano è fino alle gambe Vabbè, comunque ragazzi, oggi sono qua per parlare del mio canale nell'aspetto musicale Ragazzi, per le persone che si sono sintonizzate adesso, in questo momento Tu che sei sintonizzato in questo precedente momento Volevo parlare delle, possiamo dire, degli aiuti che voglio dare per il vostro canale Ebbene sì, è un canale di musica per voi Ragazzi, io ho un link per quanto riguarda la pagina mia SoundCloud Che trovate in description o qua da qualche parte, non lo so E ragazzi, io tratto per quanto riguarda musica New Age La musica quella tipo, omm, quella tipo che sei così E per quanto riguarda la musica Boom boom boom, dubstep, trapstep, dance E poi per quanto anche riguarda la musica per serate Il vostro cocktail E faccio stile New Age Chill Out Deep House Tutte queste cose molto rilassanti Che per quanto riguarda il sottofondo della mia musica È veramente molto, molto rilassante Almeno per me Ragazzi, voglio ringraziare Un canale che si chiama Olivieri93 Troverete il link in descrizione E penso qua, in questo angolo brutto Troverete il nome Perché lui usa e sfrutta i miei mix Poi, in questo angolo schifoso Troverete il nome di HackerGamers97 Penso, I don't know if it's right the surname Because I can't remember now the number Sorry for my English E questo qua è un altro canale Che sfrutta i miei video Salute a tutti quanti Bella ragazzi E questo qua Penso che vi ha fatto capire Cosa faccio io Ragazzi, io faccio questi video Su SoundCloud SoundCloud Come volete chiamarlo E li metto in free download Ragazzi, cosa vuol dire? Che io questi video No, queste canzoni Le metto gratis Con il download gratis Per aiutare you Ma non soltanto per YouTube Ragazzi, questo sarebbe una stupidaggine Però più che altro È una cosa che piace veramente a me Lo faccio per le persone che conosco E anche tantissime persone Che comunque Esistono in this world Perché in questo mondo Siamo veramente molti Ragazzi, se parlo in inglese Perché certe volte parlo in inglese Perché comunque È la mia seconda lingua Mettiamola al livello C1 Per chi conoscesse Il livello della lingua E ragazzi Forse avrò messo in descrizione Da qualche parte Questo livello Cosa significa Ragazzi Comunque Cominceranno i video Con qualità migliore Per quanto Editing Mettiamola in questa maniera E questi edit Questi music Questi mix Verranno messi In download gratis Per voi Perché ragazzi Voglio aiutare Per rendere il vostro video Migliore Aiutandovi Buttando questa musica Che potete tranquillamente scaricare Sto facendo un casino ufologico Ed tranquillamente Mettela sotto fondo Di musica Per il vostro video Dato che ci sono tantissimi generi Possono essere Ci possono essere svelati Mix Che potrebbero andare bene Per determinati giochi Per esempio Minecraft Io metto Uno stile Molto sul new age O il chill out Perché comunque È un posto Dove siete nella natural In un open world E potete tranquillamente Svagarvi Mettendo questa musica Rilassante E quando dovete fare Per esempio Un commentary Potete mettere Questa musica E potete tranquillamente Rilassare E farvi trascinare Da questo video Per quanto riguarda Il Come si chiama Il dance Il dub Il soft dubstep Io faccio Non faccio il dubstep Però faccio il soft dubstep Ci sta Per quanto riguarda I video Un pochino più Movimentati In action Tipo come I miei vecchi video Di Battlefield E i miei video Di Mv3 Quindi ragazzi Il link Lo trovate in descrizione Di questo SoundCloud Comunque Recapitolando Tutto questo complesso Ragazzi Questo qua è un video Dove volevo parlare Un pochino Del mio Aiuto per voi Quindi In maniera molto semplice Compatta Con parole molto decise Dirette Io faccio Musica Da DJ Faccio musica E la metto Su SoundCloud SoundCloud È un sito Per dove poter ascoltare Musica Naturalmente gratis E potete Tranquilmente Downloadarla La musica Non è in copyright Quindi ragazzi Volete metterla Tranquillamente Sotto I vostri video Ragazzi Se siete interessati A video Dove metterò I miei mix YouTube Per favore Mettetemi un like Un commento Se siete interessati Anche a video Dove vi faccio Vedere Come si fa un intro Per quanto riguarda Non intro YouTube Ma intro Inteso Come ho fatto Nell'ultimo video DJ Slash Are you ready for party E mettere Qualche effetto Interno Nessun problema Perché vi dico subito Il programma Che io uso È Audacity È un'emulazione Per quanto riguarda Anche Autotune Sono due programmi diversi E Veramente ragazzi Potrebbe essere Una cosa che potrebbe Interessarvi Quindi ragazzi Questo vlog È giunto Al termine Al termine Se vi interessano Altri video Così Mi ricordo Di mettere Un like Un commento Di iscrivervi al mio canale Se non siete Come iscrivetevi Andate a dare Mio precedente video Risaluto Oliver Olivieri 93 O 92 Quali cose del genere E Hacker Gamers 97 E ci si vede Un prossimo video Da poi è tutto DJ Slash Bella Ciao a tutti Ogni Ogni Grazie per la visione!